Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna TR24 da Andrea Raggini. Nella nostra regione è tornata protagonista l'alta pressione che ha garantito ieri e oggi due splendide giornate di sole, ma anche quella di domani giovedì non sarà da meno, infatti i cieli risulteranno al mattino sereni su tutto il nostro territorio regionale. Nel pomeriggio avremo un graduale aumento della nuvolosità sui settori occidentali dell'Emilia, ma senza alcuna precipitazione. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà debole generalmente da est, soprattutto sul mare, che si presenterà calmo. Temperature minime, comprese tra 12 e 16 gradi, i valori massimi saranno in lieve aumento sulle pianure centrali, stazionari altrove, comprese generalmente tra 20 e 26 gradi, con punte fino a 27 e 28 gradi, proprio sulle pianure centrali dell'Emilia. Poi, nella giornata di venerdì, l'istabilità tornerà ad aumentare, soprattutto sull'Emilia centro-occidentale, nel corso del pomeriggio. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Grazie.